Buongiorno a tutti e a tutti i nostri programmi, oggi andremo a dare alcune nuove notizie quanto riguarda il fans e i social market Vi invito sempre a iscrivervi al canale, lasciare un like e attraverso la campanella per estaggiornarsi sui miei contenuti Parliamo di questo bellissimo gioco che giorno dopo giorno riceve degli upgrade E' l'unica upgrade che riceve in questa settimana e che praticamente abbiamo deciso di inserire un nuovo stile di quanto riguarda l'inserimento della formazione Abbiamo inserito un tipo simile a Fantagaccio dove dovete andare a inserire la vostra formazione, il vostro modulo, 11 giocatori in campo e 7 panchinali Avete la possibilità di avere 5 sostituzioni, quindi praticamente potete, se 5 giocatori non giocano e non partono il titolo e non giocano in quella relativa partita Potete usufruire delle sostituzioni che avete a disposizione 5 sostituzioni, poi i giocatori devono far parte delle competizioni elencate nel torneo E come vedete qui potete utilizzare qualsiasi giocatore che fa parte delle seguenti competizioni Serie A, Premier League, Campionato Arabo, Coppa Italia, La Liga, la Bundesliga eccetera eccetera Oltre a questo dovete inserire la formazione entro le 15 dell'11 agosto del 2023 Perché la prima competizione creata va dall'11 al 14 agosto Un'altra cosa che è stata eliminata sono ovviamente le competizioni singole E quindi ci sarà un'unica competizione dove potete utilizzare qualsiasi giocatore Rispettando tutte le direttive e il regolamento della competizione E oltre a questo potete usufruire di TransferMarket.com per prendere il valore di mercato Relativo al giocatore Quindi dovete fare differenziamenti a TransferMarket quanto riguarda il valore di mercato Se volete comprare un giocatore dovete usufruire dal sito di TransferMarket.com Dopo questo l'altra direttiva è che non ci saranno più i tipi di carte Praticamente sono state eliminate e ci sarà solo un'unica carta dove ha il suo relativo valore di mercato E potete utilizzarlo solamente in questo modo Quindi sono state eliminate i tipi di carte, sono state eliminate i tornei singoli di ogni singola competizione E avete la possibilità di inserire più giocatori perché prima le competizioni singole si inserivano 6 giocatori Due attaccanti, due centrocampisti, un difensore e un portiere Ora avete la possibilità di fare, di creare il vostro modulo Di inserire i giocatori che volete Di comprare e vendere i giocatori che volete a seconda del vostro budget E di inserire anche un modulo Quindi potete inserire qualsiasi modulo Che secondo i moduli utilizzati Moduli utilizzati e non moduli che non hanno senso E poi, oltre a questo, avete Chi arriva tra le prime due posizioni Avete in pari 140 milioni di presunzione E seconda posizione 50-90 milioni Avete dei premi in denaro da riscattare Queste sono le nuove direttive quanto riguarda il Fanta e Social Market Vi ricordo che ci saranno altri partecipanti Vi darò un esempio di formazione che praticamente hanno inserito in questo momento Come vedete qui Questa è la formazione mia Con Alex Tellez, Difensore, Igor e Premier League Come vedete qua c'è Premier League Il campionato arabo La Liga è una formazione veramente esotica Creata da sottoscritti E qui invece ci sono quelli dei partecipanti Che hanno inserito da poco Come vedete qui hanno subito acquistato Lewandowski Hanno acquistato Gundogan Eccetera eccetera Questo è tutto quanto riguarda le nuove news Quanto riguarda il Fanta e Social Market Vi invito sempre a iscrivervi al canale Vi mando un grosso abbraccio ai vostri programmi Ci vediamo al prossimo video Con o con notizie quanto riguarda il Minion e il Calcio Mercato Oppure il Fanta e Social Market Vediamo di portare altri tipi di contenuti Come il Farming Simulator Che vi ho portato un primo video E ora cercherò di portarvi altri video Che ho visto veramente il supporto in quel video E quindi vi porterò anche quella tipologia di video Ci vediamo alla prossima Bella dal vostro video game Grazie a tutti